In Costa Smeralda si balla un po' ovunque, nonostante i divieti, la Movida non conosce freni. Proprio per i balli e il mancato rispetto delle normative anti-Covid, il Just Cavalli, uno dei locali più gettonati, è stato postretto alla chiusura sino a Ferragosto. Abbiamo prodotto il tavolo? Dove? A Just Cavalli. Il locale l'hanno chiuso però. Andranno a ballare da qualche altra parte. Qua ci si diverte? Molto. Non vediamo l'ora di fare queste serate, stavamo programmando infatti per il Fibic. Ci si diverte, ci si diverte. Si esce la sera, si balla a tardi ovviamente. Si balla? Si balla, si balla. Ieri siamo andati a una serata al Country Club. Si, si balla, si balla. Ci sono tantissimi turisti italiani che speriamo che vada avanti, si vive la giornata perché i problemi possono sorgere da un momento all'altro. Mentre a Cagliari si riempiono di nuovo le terapie intensive, in Costa Smeralda ci si mette in lista per bar e ristoranti. Tutto esaurito, al billionaire si entra solo su prenotazione. La gente la usa la mascherina oppure no? Beh, direi poco. Qualcuno le dimentica. I locali notturni sono pieni? Sì. Amici, divertimento, mare e più spensieratezza dell'anno scorso. Si bada in strada? Sì, si bada.